Buongiorno a tutti, questo gruppo è formato da Aberton, i fiammettono c'era Chiarettinelli Chiara e oggi andremo a parlare del paracadute. In questa presentazione tratteremo i seguenti argomenti, ovvero la storia, lo scopo, l'utilizzo e il funzionamento. Punto numero uno, la storia. Allora, Leonardo da Vinci è l'inventore toscano che aprirà la strada dell'uomo verso il volo, motivato inoltre dal fatto che sempre è stato appassionato, sin dalla tenera età, dal volo degli uccelli. Sin da allora si domandava se, ma soprattutto come, l'uomo potesse riuscire a volare. Fece questa scoperta mentre risiedeva a Milano tra il 1483 e il 1486. Qual era lo scopo e per cosa veniva utilizzato il paracadute? Allora, lo scopo del paracadute era quello di attutire le cadute. Infatti, durante la Seconda Guerra Mondiale venne utilizzato sia come sistema di salvataggio, sia per il lancio di reparti militari in zona di combattimento. Il funzionamento. Durante una caduta, quando una persona apre il paracadute, si affida alle due forze applicate su di esso. La gravità è la forza del tritorellaria. La forza di gravità è quella forza per la quale ogni corpo viene attirato alla superficie terrestre, mentre la forza del tritorellaria è la forza che si oppone al movimento dei corpi. Prendendo in considerazione queste due forze, molti fisici durante la storia hanno collaborato e sono riusciti a creare il paracadute, uno strumento capace di opporsi alla forza di gravità facendo rallentare la caduta di una persona. Spero che adesso l'argomento vi sia più chiaro. Grazie per la visione e arrivederci.